Musica Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 16 del settimanale sportivo di Fano TV. Sarà perché ad un certo punto si è temuto seriamente che non si potesse più fare, sarà per la splendida giornata, non solo dal punto di vista meteo, ma l'edizione numero 19 della Colle Marathon è probabilmente la più riuscita di sempre. Non so se condividono l'idea il presidente della Colle Marathon, Annibale Montanari, buonasera e benvenuto di nuovo. Buonasera a tutti. E Marco Savelli che è un punto di riferimento del comitato organizzatore, buonasera e bentornato anche a lui. Grazie e buonasera a tutte le spettatrici e telespettatori. C'eravamo visti un paio di mesi fa in previsione di questa Colle Marathon, era stato debellato lo spauracchio dell'estinzione, però c'erano ancora tutti i dubbi legati a quanti si sarebbero iscritti, a quale sarebbe stata la risposta, a quelli che sarebbero state le difficoltà di ordine organizzativo. Ebbene, credo che a consuntivo tutte queste preoccupazioni siano state fugate, vero Montanari? Certo, grazie all'aiuto di tanti siamo riusciti a fare una bella edizione quest'anno. Il tempo, come detto, si è aiutato, l'arrivo bellissimo all'arco d'augusto, quindi è stata una bella edizione. Arrivo all'arco d'augusto, Savelli. Una scelta estremamente indovinata perché l'impatto visivo è stato straordinario. Sono anni che crediamo che l'arco d'augusto sia la location, il posto più adatto proprio per la magnificenza del monumento più importante della nostra città. Finalmente ci siamo riusciti ed è stata una festa per tutta la città, per tutti i maratoniti. Ci si poteva immaginare che davanti all'arco d'augusto con gli atleti provenienti da via Arco d'Augusto l'effetto potesse essere straordinario, ma è tutto il pincio che ha fornito in qualche modo l'habitat ideale per accogliere gli atleti. Devo dire che la fiumana di gente che vediamo anche in queste immagini è incredibile. Ancora ci vendono i brividi che, presi dall'organizzazione, ci rendiamo soltanto in questi giorni veramente conto di quanto sia stata una giornata di festa dello sport e di festa del benessere, dello stare bene insieme e soprattutto anche sotto l'aspetto del volontariato, dell'associativismo e della disabilità. È stato uno sforzo come sempre collettivo di un esercito, lo abbiamo sempre definito così, di volontari che si sono spesi instancabilmente, qualcuno anche a costo di rimetterci qualche giorno di ferie, vero Montanari? Beh sì, perché ne abbiamo tanti con noi quel giorno, movimentiamo circa 300 persone sul percorso e tanti volontari, Proloco, associazioni importanti come Avis, CSI, ne abbiamo tante con noi. Veramente abbiamo fatto insieme un grande risultato perché insieme si fanno certe cose, perché il lavoro di una maratona come la nostra, che è una macchina molto complessa, chiaramente comporta tanto lavoro, quindi ci abbiamo creduto tutti e la grande anche sinergia con le istituzioni, siamo riusciti a fare un grande evento. Ricordiamo che all'epoca in cui venne palesato appunto il rischio di non organizzare l'edizione 2023 fu decisiva l'iniziativa delle amministrazioni comunali di rassicurare in qualche modo l'organizzazione garantendo un preciso contributo sulla base di una convenzione, tra l'altro il Comune di Fano nel suo caso ha già ratificato proprio in questi giorni l'impegno fino al 2025. Sì, ha già proposto un triennale dove veramente sta impegnando anche gli altri comuni a fare veramente un'edizione alla ventesima in prospettiva di un grande ritorno di una maratona degna delle marche, la maratona dei valori. Non solo la maratona distanza classica ma anche la mezza maratona in partenza da Mondolfo e da quest'anno la 10 Colle Marathon da Barchi a Sant'Ippolito. Avete così coperto tutta l'offerta che si può garantire agli appassionati di corsa. C'è chi naturalmente non può sostenere la fatica onerosa della 42 km, c'è chi arriva a farne 21, c'è chi arriva a farne 10. Insomma, nessuno può sentirsi escluso dalla Colle Marathon. È così Montanario? Sì, in effetti abbiamo accontentato tutti. Quest'anno abbiamo coperto l'altra parte della Valla del Metauro con la 10 km. Ma quello che ci conforta è che oltre alla maratona è molto molto presente la mezza maratona perché c'è tanta solidarietà nella mezza maratona. C'è Ola Rimba che è riuscita a portare 350 persone insieme a Dimituli. Sono tutte forme dove ci si può sempre aiutare a chi sta peggio di noi. Quindi l'obiettivo rimane quello. Intanto vediamo qui la partenza, abbiamo detto dell'arrivo, ma anche la partenza da bar che continua a rappresentare uno spettacolo estremamente successivo. Penso di sì perché sappiamo bene che la partenza tutti dicono che è una delle più belle in Italia perché da un borgo parte tanta gente con musica e tante cose, con gli andoli e questo è stato sempre apprezzato. Quindi grazie a Tiero Roveresche che lavora dietro la maratona e a Claudio Patrignani che è lui che organizza, è il nostro promotore. E quindi siamo riusciti da Barchi fino a Fano attraversando questi borghi bellissimi a fare un bel evento per 19 anni, ci abbiamo creduto. Il riconoscimento più significativo credo arrivi sempre da chi la corre la Colle Marathon. È stato così anche quest'anno? Le testimonianze sono incredibili. Guardando i dati nella maratona vengono da 168 società diverse. Quindi vuol dire che si rappresentano almeno 168 comuni con un territorio che non è soltanto italiano ma riusciamo pronto a essere una maratona veramente internazionale con presenze da almeno altri 10 paesi in giro per il mondo. Questo è pronto a testimoniare di quanto è particolare la nostra maratona ed è sentita. Noi crediamo sempre che lo spirito del volontariato e dell'associativismo siano importantissimi e la maratona lo dimostra ancora. Lo dimostra tutte le proloco impegnate di tanti comuni del nostro territorio, lo dimostrano le tante società sportive, da Lucrezia a Fanno Correre in Primis e altre associazioni di volontariato che sono presenti. Quindi gli sforzi sono enormi. Le proloco ci danno un appoggio incredibile senza dimenticare la protezione civile che anche quest'anno con la loro cucina mobile ci hanno permesso di dare quasi 2000 pasti a tutti i partecipanti e tutti i volontari. Quindi uno sforzo enorme da parte di tutto il territorio proprio per premiare quelli che sono i valori dei maratoneti. Le testimonianze sono state enormi, ma non soltanto enormi in qualità, ma anche in presenza, perché siamo riusciti a riempire 500 posti letto all'interno degli hotel. Questo vuol dire che... Perché non dimentichiamo mai che la Colle Maraton è la Maratona dei Valori, è una corsa, è una competizione, ma ha anche un impatto in termini turistici e soprattutto promuove un territorio. Montanari. Beh, veramente questo è quello che noi ci tenevamo da tempo, perché oltre alla promozione turistica sappiamo bene che noi lavoriamo sull'accoglienza e sui servizi, che sono importanti e tutti hanno riconosciuto che da noi manca poco o niente. E questo dobbiamo dire grazie soprattutto al gran lavoro che ha fatto Aset per la pulizia, sui ristori all'arrivo soprattutto, ma anche i ristori curati da Bruno Toccacieli, che non hanno fatto mancare niente, tutti hanno detto che è completo. E poi ecco, il lavoro della provincia che ha pulito le strade, quindi ne abbiamo tanti, ma noi stiamo proponendo l'eccellenza del territorio, perché anche le aziende che ci sostengono sono a livello mondiale, quindi non è che abbiamo qualcosa da poco. E qui ci stanno credendo tutti in quello che noi quest'anno è stato veramente un bel rilancio dopo quello che abbiamo avuto, il Covid, queste cosine qua. Continua ad essere largamente positivo anche il saldo tra la sinuosità del territorio che si rivela per le gambe degli atleti, toccasana, ideale, e però le suggestioni che questo percorso riesce a trasmettere. E quindi la gente in qualche modo fa passare in secondo piano quello che è l'impegno che un tracciato del genere comporta. Assolutamente, sia la maratona che la mezza sono un mangio e bevi continuo fino a arrivare alle porte della città di Fano. E quindi questo paesaggio che è in continua evoluzione, questo continuo dinamismo fino appunto a consentire ai partecipanti, alle maratonette e ai maratonetti di vedere il mare. Ed lì si percepisce l'arrivo con un paesaggio appunto che è fantastico. Queste fatiche sono attenuate dall'animazione, perché bisogna ricordarci che c'è tanta animazione durante la Colle Marton ed è l'aspetto più importante per noi del valore aggiunto. Quest'anno è incrementata in particolare nel Fanese? Abbiamo incrementato ancora di più nel Fanese, sicuramente alcune situazioni di convivenza devono migliorare, dobbiamo essere più bravi noi a far partecipare altre associazioni, altri enti per rendere ancora più gioiosa la fatica dei maratonetti, anche perché il caldo quest'anno si è fatto sentire. E un doveroso grazie va anche a chi ha curato la salute e quindi tutta la parte ospedaliera, medica, diretta dal dottor Stefano Ripanti, dal Panatron stesso, dal Fanoregby che sono stati di supporto proprio anche per la logistica e anche per un convegno sullo sport della terza età che è stato tenuto due giorni prima della maratona. Quindi c'è un tessuto veramente importante che non è soltanto quello sportivo, ma è anche quello dedicato appunto al riconoscimento dei valori di tutto il territorio e dei valori dello sport. Veniamo all'aspetto sportivo, ad imporsi in campo maschile ancora una volta Iunès Zituni, che si conferma largamente la più forte. In campo femminile invece una novità, quella di Silvia Luna, e anche in questo caso una testimonianza. All'arrivo ha detto la volevo fare da tempo, finalmente l'ho fatta, mi sono pentita di non averla fatta prima. E anche questo, voglio dire, suona a titolo di merito per la Colle Marton. Ebbè certo, correre la nostra mentalmente ti aiuta veramente, anche se i sali scendi, chiaramente ecco, muscolamente ci vuole qualcosa di più, però quando arrivano tutti arrivano col sorriso, si divertono e passano un giorno di allegria, di spettacolo, che forse poche maratone in Italia riescono a dare. Correre su un crinale di 30 chilometri in due vallate penso che sia una cosa unica. Soddisfatte le istituzioni, soddisfatti gli organizzatori, soddisfatti, mi pare di capire, anche gli sponsor, e non è poco. Eh beh, dobbiamo dire molto grazie agli sponsor che ci hanno creduto anche quest'anno, sono arrivati anche dei nuovi, che ci stanno veramente sostenendo, perché non è facile oggi, con il periodo un po' difficile, trovare, ecco, sponsor importanti, però sono eccellenze, io continuo a dire, sono eccellenze del territorio, che danno un contributo importante, per un bene comune, perché insieme hanno capito cosa vuol dire aiutare una maratona di questo genere con tante difficoltà, e aiutare, ecco, tanti volontari, perché qui, e poi la solidarietà, avevamo quest'anno cinque disabili sul percorso, è stato veramente... Abbiamo anche delle immagini a questo riguardo, una testimonianza concreta, perché a volte può apparire retorica, no, la maratona dei valori, in realtà qui c'è un'attenzione concreta, anche in questo caso, un riconoscimento è arrivato, credo, da Mauro Tomasi, da Riva del Garda, che ha detto, io un'accoglienza, una disponibilità del genere, non l'avevo mai intercettata. È vero, infatti l'ho chiamato quando è ritornato a casa, ha detto, io ho fatto 60 maratoni, imparò un'accoglienza così, non l'ho mai vista. E con i quadrati. Fa molto piacere, con un braccio solo, è riuscito a compiere veramente un miracolo qui, perché con le salite che ci sono, non è che sia, e però ce l'ha fatto... Anche altre immagini? E la solidarietà che si fa corsa. Infatti, queste sono le cose belle che noi teniamo, la Maratona dei Valori è questa. E per quel che riguarda invece i volontari, abbiamo detto di questo sforzo collettivo, però anche parlando con Annibale, prima della Colle Marathon, come i soldi, anche i volontari, non bastano mai, ci sarebbe bisogno magari di forze fresche, di reclutare nuovi elementi per garantire un'organizzazione ancora più dettagliata, ancora più attenta. Sicuramente sono i dettagli che fanno la differenza e per essere bravi nel curare i dettagli c'è bisogno di personale, di lato umano, di volontari. Ce ne sono tanti, ma quando c'è un evento così importante come la Colle Marathon con due partenze e di tre gare, con due arrivi distinti, ci vogliono tantissime persone. e oggi sicuramente siamo alla ricerca di volontari sotto tanti aspetti per rendere ancora migliori quelli che sono gli aspetti che poi contano in una maratona. Guardando qua le immagini, appunto, la partenza di Mondolfo, la partenza di Barchi, l'arrivo a Sant'Ippolito, l'arrivo a Fano, la logistica è sicuramente fondamentale. Qui le proloco sono state sicuramente fantastiche, sono state fantastiche. Qua vediamo i palloncini dei peser, quindi tanti volontari che danno una mano, danno valore a quelli che sono l'aspetto della fatica e della gioia perché ricordiamoci che la maratona è fatta di fatica ma è fatta anche di gioia, di lacrime agli occhi al di là del tempo con il quale uno vuole arrivare. Le immagini anche delle persone che qua hanno corso ad un punto, come ha detto prima Annibale, sono stati più di 300 a fare la passeggiata per l'AIL, la Sessione Italiana contro il Mnome, contro la Leucemia e questi sono tutti volontari che si sono impegnati per rendere piacevole, felice e dare speranze di vita. Noi abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a rendere ancora più grande la Colle Marathon. E si può vedere che si può anche camminare la Colle Marathon volendo, non bisogna per forza correre. Uno potrebbe pensare è finita la Colle Marathon, lavoro concluso. In realtà forse il grosso del lavoro comincia adesso non soltanto per mettere in cantiere già adesso l'edizione 2024 ma mettere a fuoco anche tutte quelle situazioni che vanno perfezionate. Abbiamo parlato del fascino dell'arrivo ma anche all'arrivo qualcosa da mettere a fuoco c'è anche per lo stoccaggio del materiale con cui realizzare il villaggio mi pare. Sì, perché sappiamo bene che dietro la Marathon continuo a dire c'è tanto lavoro e noi ci stiamo proiettando per il futuro per avere sempre più personale. Sappiamo bene che abbiamo comunque 15 gruppi sportivi che ci fanno da supporto e su questo stiamo lavorando per far sì che tutto vada bene nelle prossime edizioni quindi l'organico dovremmo attingere abbiamo bisogno di giovani che credono però che hanno la nostra passione perché la nostra passione è al servizio di gente che sta peggio di noi quindi soprattutto per fare del bene è il nostro stile di vita che noi proponiamo perché in una società che vuole migliorare vuole dare un futuro giovane ha bisogno ha bisogno di sostegno e ha bisogno di dare gli esempi perché quello che serve servono gli esempi in una società come la nostra noi ci proviamo forse l'unica maratona che c'è siamo tutti maratonetti che organizza quindi non ci sono altri quindi sapete di cosa parlate e sapete quello che fate cosa c'è nel futuro della Colle Marathon Savelli e poi Montanari cosa ci può essere anche di diverso rispetto a quello che è stato proposto fino adesso e che comunque ha funzionato indubbio che la prossima edizione è un numero particolare la ventesima e quindi inizia a essere un quinto di secolo tante edizioni tanto impegno e c'è bisogno sicuramente di un rigiovanimento all'interno di tutta la struttura organizzativa c'è bisogno di un maggior supporto da parte anche di alcune istituzioni che sicuramente ci stanno credendo vogliamo segni tangibili ancora più forti da parte di alcune realtà dobbiamo essere noi ancora più bravi a coinvolgere altre associazioni altri enti per far sì che la Colle Martin non sia tra le prime dieci maratone ma diventi e torni ad essere quella che è stata una volta tra le prime dieci maratone d'Italia Un sogno Montanari per i prossimi anni? Ma il sogno di vedere tanta gente muoversi perché noi pensiamo alla salute delle persone perché chi viene qua sì noi ci teniamo che vengono a correre a vincere però stiamo movimentando tanta gente per la salute la gente deve muoversi camminare e noi diamo una grossa e mi pare che comunque il messaggio stia ticchendo esatto diamo una grossa opportunità e l'altra novità che abbiamo in mente abbiamo fatto il decennale con il libro ecco il ventennale ci stiamo proponendo con le belle immagini una nuova iniziativa editoriale insomma quindi ecco ci stiamo movendo e ci sono effetti concreti misurabili di gente che si avvicina alla maratona grazie alla Colle Marathon sì è fantastico perché grazie alla Colle Marathon mi ha detto il presidente di Fanno Correre Enrico Fabroni che 25 persone si sono avvicinate al pudismo si sono volute testarare proprio per correre la Colle Marathon sia nella mezza maratona che nella maratona vuol dire che la Colle Marathon è proprio veramente tangibilmente un veicolo di sport e di benessere e di tutela della salute abbiamo detto grazie a tanti ma c'è un ultimo grazie che Montanari vuole rivolgere beh diciamo che la maratona dei valori io ritengo sempre che con il percorso che abbiamo fatto fin dall'inizio il buon Dio fino adesso ci ha aiutato siamo arrivati alla 19esima edizione e ringraziamo e continuiamo su questo percorso e come alleato non è male insomma è vero grazie a Danibale Montanari presidente della Colle Marathon grazie a Marco Savelli del comitato organizzatore e noi ci rivediamo come sempre fra qualche attimo non è finita come era legittimo augurarsi ed è finita anche prima del previsto parliamo dell'avventura della Vigilarfano nel campionato di A3 di pallavolo maschile approfondiremo il tema con il presidente del club Virtussine Emilio Cenerilli buonasera e bentornato buonasera e con Simone Roscini vice allenatore della Vigilar ma anche molto di più possiamo dire così buonasera dicevamo di un'avventura double face è stata straordinaria fino ad un mese e mezzo due mesi fa con una stagione regolare connotata da sole quattro sconfitte poi nella post season quando più contava sono arrivate addirittura quattro sconfitte in cinque partite l'ultima di cui facciamo scorrere le immagini in casa domenica scorsa contro Casarano era gara 3 della semifinale playoff che avrebbe garantito il diritto poi a giocarsi di nuovo la 2 nella finale contro Catania è finita appunto male 3 a 1 per Casarano con la Vigilar che è incappata in una delle prestazioni più deficitarie della stagione proprio nel momento in cui si poteva fare la differenza sentimenti contrastanti credo al termine di questa stagione a partire da chi questa avventura in qualche modo l'ha ispirata e l'ha guidata Cenerilli sì sentimenti molto contrastanti siamo arrivati al termine di una stagione in ogni caso straordinaria nel senso che siamo partiti come squadra non certamente favorita siamo partiti con una squadra che aveva l'obbligo di fare bene in questo campionato di A3 nessuno avrebbe mai pensato di arrivare al termine della stagione prima in classifica anche nella classifica a Vulsa con 65 punti e quindi a quel punto insomma la colina naturalmente ci è un po' venuta e l'obiettivo A2 lo stavamo in qualche modo pregustando è chiaro che siamo arrivati un pochino scarichi probabilmente un pochino scarichi sulle gambe un pochino scarichi sulla testa quella dei playoff è una lotteria frase trita e ritrita ma è esattamente così I rimpianti ci sono legati forse principalmente alla sfida con Ortona che valeva direttamente l'accesso alla serie superiore in casa la vigila ha risposto di 4 match point di cui 3 nel quarto set non li ha sfruttati ha consentito ad Ortona di vincere quella partita e di acquisire un vantaggio anche psicologico evidente ma l'ho raccontato più volte la partita con Ortona in casa a gara 1 di finale l'abbiamo vinta tre volte in realtà l'abbiamo vinta tre volte pur alla fine del match perdendola nel senso che primo set 22-17 lo abbiamo perso con un parziale di 8-0 con Marshall in battuta abbiamo vinto secondo e terzo set guidando il match in modo impagabile mi ha fatto una veramente due set straordinari il quarto set abbiamo avuto tre match point quando hai tre match point contro Ortona in casa quello è il momento di chiuderla di andare a Ortona con il vantaggio di gara 1 avendo la certezza come minimo di rigiocare gara 3 quella decisiva nel proprio campo nel nostro campo che tra l'altro quest'anno ci ha aiutato tantissimo perché il pubblico è stato straordinario ed è chiaro che lì un pochino forse abbiamo abbiamo perso quelle certezze e da quel momento abbiamo fatto sicuramente un po' più fatica lo sport è pieno di queste storie così apparentemente inspiegabili relativamente ad una squadra che domina la stagione regolare poi si sgonfia nei playoff o viceversa come sta accadendo per esempio per Casarano ci sono stati degli accidenti chiamiamoli così la sfortuna ci ha messo del suo ha tolto praticamente di scena gozzo per quasi l'intero girone di ritorno ci sono stati problemi anche per Marx che però il tedesco è stato bravo a superare dal di dentro Roscini cosa è successo tra la fine della stagione regolare e l'inizio di questi playoff sì purtroppo siamo arrivati nel momento più importante della stagione non nelle migliori condizioni è un peccato perché ecco ci dovevamo godere tutto quello che eravamo riusciti a mettere insieme con una regular season straordinaria e invece nelle partite decisive purtroppo siamo arrivati corti ma corti purtroppo così perché a livello sia tecnico mentale tattico purtroppo queste sono partite che vanno giocate con un'intensità diversa da quella che siamo riusciti a mettere in campo noi o meglio forse siamo riusciti a metterla in campo così a strappi non in maniera costante come siamo riusciti a fare durante la regular season e questa cosa qui ci ha penalizzato in maniera determinante perché appunto come dicevamo prima abbiamo avuto tante occasioni per poter chiudere la partita con Ortona a sette la stessa partita di domenica scorsa nel primo set con Casarano eravamo partiti bene poi ci siamo fatti raggiungere e poi perdere per 25-23 quindi sono tutte situazioni che purtroppo abbiamo pagato a un prezzo carissimo dispiace dispiace tanto perché la stagione era stata veramente fantastica come diceva il presidente non eravamo partiti per fare un bel campionato ma non eravamo sicuramente la squadra favorita siamo stati molto molto bravi ad avere una continuità per tutta la regular season cosa che invece squadre che erano appunto state costruite per vincere il campionato non sono riuscite ad avere noi abbiamo fatto tra virgolette un solo scivolone con le squadre diciamo di seconda fascia che è stato il 3-2 subito a San Donà le altre partite sono state tutte giocate e vinte abbiamo sì perso gli scontri diretti però la nostra continuità è stata sicuramente migliore sia di quella di Pineto che Macerata che doveva essere l'altra squadra che doveva far la voce grossa nel nostro girone dicevamo degli sgambetti della malassorte ma l'impressione al di là di situazioni che si sono sicuramente riprodotte anche in allenamento in maniera negativa forse è mancata un po' di personalità un po' di convinzione nell'affrontare anche le problematiche che sono intervenute nel frattempo sì probabilmente questa componente è stata decisiva nel momento in cui dovevamo reagire magari con un atteggiamento che non doveva essere basato solo sulla tecnica e la tattica ma anche su un atteggiamento di voglia di superare purtroppo ecco tutte le cose che ci erano capitate questa cosa invece ci ha penalizzato e purtroppo non si è riusciti a reagire come era giusto reagire in questi casi Casarano domenica durante la partita ha avuto un infortunio dello straniero che poteva chiaramente penalizzarli in maniera determinante loro da questo punto di vista qua invece hanno raddoppiato le loro forze e sono riusciti a venire a capo di una partita anche ecco con l'assenza di un giocatore per loro importante ecco noi questa cosa qui invece purtroppo siamo riusciti a farla non costantemente a tratti e però i tratti diciamo non ci hanno consentito di portare a casa il risultato che tutti volevano e speravano di portare a casa quale ruolo invece può aver esercitato la responsabilità che subentrata ad un certo punto nessuno chiedeva tanto a questa squadra che però si è presentata ai playoff non dico da favorita ma quasi sì non c'è dubbio non c'è dubbio che a un certo punto questa responsabilità si è sentita eravamo lassù in alto e quindi necessariamente favoriti quindi siamo passati dal ruolo di outsider a quello di favoriti ed è chiaro che questo un pochino può avere può avere influito rivadisco vinta la prima gara contro Tone in casa probabilmente staremmo raccontando un'altra storia in questo momento col senno di poi chiaramente è poi difficile fare qualsiasi tipo di ragionamento ma credo che quella sia stata veramente la svolta persa quella partita ritengo che le certezze che fino a quel momento potevamo avere le abbiamo un po' via via perse e questo ci ha penalizzato in modo drammatico sarebbe stato bello e anche giusto in qualche modo sigillare questa stagione con un trofeo invece la Coppa Italia è sfumata in semifinale la Supercoppa in finale e nei playoff è evaporata anche la possibilità di salire in A2 questo vi fa un po' in qualche modo dormire sogni agitati ma è un dato di fatto è un dato di fatto abbiamo sbagliato tutte le partite decisive tutte le finali sostanzialmente questo è scritto nei libri della storia di questa stagione di Serie A3 abbiamo perso con Macerata in casa l'accesso alla Final Four di Coppa Italia che peraltro potevamo organizzare essendo arrivati i primi in classifica nel gironi di andata e da lì poi c'è stata la Supercoppa contro Pineto che è stata la nostra bestia nera quest'anno tre gare su tre perse e poi c'è la storia di Ortona c'è la storia di Casarano insomma le partite quelle decisive è venuta un po' meno ripeto un po' di certezze sono venute un po' meno le certezze e le abbiamo perse ed è un vero peccato perché ci siamo arrivati ce le siamo conquistate tutte queste possibilità facendo una stagione ripeto straordinaria e quindi ci speravamo non c'è ombra di dubbio che a un certo punto ci speravamo davvero è un po' la legge dei playoff in generale non vince il più forte in assoluto o comunque non vince sempre il più forte vince sicuramente chi sta meglio la prova la controprova è fornita forse da Pineto che era indicata quasi unanimemente come la più forte del lotto in assoluto e si è fermata in semifinale proprio come Fano sì la regular season chiaramente aveva dato delle indicazioni però i playoff come si dice sempre sono un nuovo campionato e quest'anno questa regola è stata rispettata nel senso che abbiamo visto che le squadre che avevano fatto una stagione regolare di un certo tipo si sono via via perse per strada e sono arrivate in fondo le squadre che magari avevano meno attenzione delle altre perché probabilmente però sono arrivate meglio sia di noi che di Pineto che erano quelli che tutti dicevano che magari potevano essere le squadre che sarebbero salite in A2 quindi la regola appunto che il playoff è un altro campionato è stata rispettata purtroppo ecco io ero particolarmente fiducioso perché dopo un'annata come quella che è stata fatta speravo appunto di poter giocare queste partite in un altro modo e invece ci siamo dovuti ecco accontentare diciamo ma sarà una rabbia che per smaltirla ci vorrà del tempo insomma ecco nessun titolo in bacheca ma comunque un'eredità importante da valorizzare cosa lascia questo campionato in previsione future e soprattutto c'è la volontà di riprovarci ci lascia una grandissima esperienza una grande esperienza fatta durante tutto l'anno abbiamo capito molte cose abbiamo capito dove intervenire che cosa fare come come organizzare questa squadra questa società per puntare per puntare in alto assolutamente sì c'è voglia di di rifare un'altra stagione importante molto importante stiamo già lavorando in tal senso il DS Brunetti è all'opera da ormai qualche giorno e quest'anno abbiamo sfiorato questa A2 il prossimo anno vogliamo assolutamente riprovarci quindi l'obiettivo è allestire una squadra molto competitiva dopodiché i campionati vanno giocati naturalmente Pineto insegna però ce la metteremo tutta come abbiamo fatto quest'anno del resto ma l'obiettivo è veramente quello di allestire una squadra altamente competitiva per la prossima stagione di A3 nel frattempo allenterete la presa sull'amministrazione comunale che era stata nella prospettiva della A2 sollecitata a progettare l'ampliamento del Palace Allende oppure restere sul pezzo no non molleremo assolutamente se qualcuno pensa che questo possa tardare l'obiettivo il progetto di rendere di mettere a disposizione un palazzetto dello sport per questa società e per la città di Fano questo non accadrà nel senso che questo anno in più che ci siamo dati per forza non deve assolutamente far tardare i progetti che in qualche modo devono andare avanti c'è una situazione molto chiara che ci arriva dalla Lega che da questo punto di vista non ammette nessun tipo di ritardo per fare l'eventuale Serie 2 occorrono mille posti un palazzetto da mille posti questa è una condizione minima e attendere questi mille posti per la 2 dovranno diventare 2000 e quindi l'obiettivo di un nuovo palazzetto si renderà per forza necessario perché la 2 per la Lega e io sono totalmente d'accordo è il campionato propedeutico alla Superlega e quindi è giusto preparare le società ad avere palazzetti che siano degni della categoria e quindi no non molleremo non molleremo neanche di un centimetro perché il pala a Yende in questo momento è molto importante per la città non solo per la Virtus Fano ma per tutti gli sport indoor della città e quindi è giusto che in qualche modo l'amministrazione intervenga per renderlo veramente disponibile agibile e renderlo presentabile a tutti coloro che vengono a trovarci le squadre avversarie e tutti coloro che ne fanno uso un pala a Yende che ha fatto fatica a contenere in queste ultime partite un pubblico che è tornato a stringersi dopo anni massicciamente intorno a questa squadra Roscini ha vissuto le diverse stagioni della Virtus e anche quelle più leggendarie hai respirato l'aria di quei tempi degli anni 80 degli anni 90 sì è stato veramente bello rivedere il palazzetto pieno l'entusiasmo del pubblico fanese è stato contagioso ci sono state delle partite veramente che era emozionante entrare dagli spogliatoi e vedere gli spalti gremiti perché appunto io ho avuto la fortuna di essere presente in campionati e partite importanti promozioni che abbiamo avuto nel nostro impianto e rivedere appunto tanta gente tanto entusiasmo mi ha fatto veramente piacere spero che purtroppo l'epilogo di questo campionato che non è stato positivo non intacchi nulla di quello che è stato fatto quest'anno perché come diceva il presidente l'idea della società è quella comunque di riprovarci e di fare le cose fatte bene e quindi se quest'anno è andata così speriamo che il prossimo anno riusciamo a fare quel passettino in più che è mancato quest'anno per poter ritornare in A2 che secondo me è la categoria che per Fano è la categoria giusta le ambizioni vanno sostenute con le idee ma anche con risorse adeguate da questo punto di vista la Virtus è attrezzata la Virtus sta lavorando anche in questo caso alacremente per far sì che ci sia il supporto anche economico per fare questo tipo di campionati e devo dire che il mondo imprenditoriale fanese sta in qualche modo rispondendo è chiaro che le risorse non bastano mai e noi continueremo a cercare di coinvolgere gli imprenditori fanesi per supportare questa squadra e noi in questo caso parliamo della tre ma in realtà qui parliamo di un progetto molto più ampio perché è ovvio che la prima squadra è l'apice di un movimento molto grande noi abbiamo più di 500 atleti che frequentano tutti i giorni i nostri impianti è un movimento molto grande c'è un obiettivo anche sul giovanile straordinariamente importante stiamo investendo molto sull'aspetto tecnico e quindi sugli allenatori che seguiranno i nostri giovani e le nostre giovani atlete ed è chiaro che la Serie A drena molte risorse ed è altrettanto chiaro quindi che avremo bisogno di supporto abbiamo avuto abbiamo avuto una risposta in ogni caso molto buona dal mondo imprenditoriale quindi siamo molto fiduciosi che questa cosa possa continuare soprattutto se continueremo a dare questo tipo di spettacolo che devo dire quest'anno è stato davvero straordinario per finire prematuro dare adesso indicazioni su quella che sarà la squadra del prossimo anno ma sulla conferma di Roscini ci si può sbilanciare? Adesso faremo un consiglio di amministrazione straordinario proprio per la conferma di Roscio e vedremo io credo che se si accontenterà di limare un pochino l'ingaggio probabilmente potremo farcela una notizia che rassicurerà l'intero ambiente grazie a Simone Roscini vice allenatore della Vigilar Fano grazie al presidente della Vigilar Emilio Cenerilli noi torniamo come sempre fra qualche istante grazie è un'alma che non smette più di vincere a notaresco nell'ultima partita della regular season arriva il quinto successo consecutivo per la formazione di Mosconi che sta andando più forte di tutte le altre che nonostante avesse la certezza di non poter migliorare il quarto posto è andato a sfugnare il campo di una squadra che invece teneva moltissimo a questa partita che era vitale per non retrocedere notaresco che sulla scorta di questa sconfitta è condannata a disputare lo spareggio salvezza con il Montegiorgio mentre l'alma può arrivare lanciatissima alla sfida playoff di domenica prossima a Roma con il Trastevere in caso di vittoria come è noto finalissima contro la vicente dell'abbinamento tra Vigor Senigallia e Cinzia al Balonga a notaresco l'alma che ha tenuto fuori i difidati per preservarli in vista dei playoff è passata quasi subito con questa spettacolare esecuzione di Zingaretti che sta venendo fuori proprio in questa finale di stagione che da lontanissimo ha sorpreso il portiere avversario notaresco che ha provato a reagire ha costruito anche delle situazioni favorevoli sulle quali Bizzini è stato estremamente efficace ma che vedremo ugualmente tra poco è capitolato nuovamente prima della finale del tempo proprio con un rilancio di Bizzini che ha favorito l'incursione di Drolè che è riuscito a piazzare la diagonale vincente per il 2-0 partita ovviamente indirizzata ma l'alma ha dovuto fare i conti con la prevedibile reazione dei padroni di casa che hanno costruito altre situazioni estremamente favorevoli senza riuscire a trasformarle con la difesa Granata messa ovviamente sotto pressione notaresco che nel soltanto nel finale di primo tempo è riuscito a ridurre le distanze e poi ad aggredire nuovamente la squadra Granata come vedremo in apertura di secondo tempo quando sarà un rigore per un fallo di mano su Antonioni a consentire agli abruzzesi di riportarsi in parità poi nel finale ha provveduto un appello con un'altra giocata formidabile direttamente su punizione un po' la fotocopia del gol con cui aveva in qualche modo ispirato la vittoria di Epinetto a consegnare il successo ai Granata che ha anche originato qualche tensione sugli spalti evidentemente qualche tifoso di casa si augurava un atteggiamento più conciliante da parte dei Granata che hanno fatto fino in fondo il loro dovere senza minimamente condizionare dunque la lotta per non retrocedere Alma che ora può preparare con il massimo dell'entusiasmo e della determinazione questo puntamento dei playoff che si sa conta molto relativamente la vincente dei playoff andrà a comporre una graduatoria in funzione di un ripescaggio però condizionato dal fatto che la precedenza verrà data alle squadre retrocesse dalla Serie C e verrà aperta anche una finestra per le eventuali seconde squadre della Serie A non di meno l'Alma questi playoff tiene e come e non si guarda indietro perché chiaramente dopo questo finale di stagione ci si chiede se questa squadra avesse potuto lottare veramente per il salto di categoria se non fosse incappata nel periodo onnerissimo tra fine 2022 e inizio 2023 ma sono considerazioni che ovviamente lasciano il tempo che trovano domenica dunque a Roma contro il Trastever su un campo notoriamente ostico e che si è dimostrato punitivo nei confronti della squadra Granata già nelle occasioni precedenti mentre vediamo anche i risultati e la classifica finale e a proposito di appuntamenti del weekend da segnalare quello di sabato prossimo al Mancini alle 16 quando la Juniors che ha avuto accesso alla fase nazionale affronterà il Bitonto Un nuovo evento ad arricchire l'offerta sportiva fanese la Fano Futsal Cup che si disputerà ad inizio giugno e ad organizzarla è la Carissimi 2016 in collaborazione con ETA Beta Calcio A5 di cui ospitiamo nel caso dei Carissimi 2016 il presidente Massimo Giuliani buonasera e benvenuto e per conto dell'ETA Beta Damiano Iacucci che è uno dei tecnici del club fanese buonasera e benvenuto anche a lui buonasera grazie allora parliamo bene di questa Fano Futsal Cup come è nata l'idea quando si svolgerà e quante squadre aderiscono a questa competizione addentrandoci anche nelle modalità di svolgimento del torneo allora la Fano Futsal Cup si svolge nel weekend del 3-4 giugno è nata da un'idea mia e di Francesco Ferri che è allenatore dell'ETA Beta poi l'amicizia che ci lega col presidente dell'ETA Beta Simone Simone Serafini ha fatto sì che insomma questa idea prendesse corpo abbiamo cominciato a chiamare qualche allenatore qualche nostra conoscenza e poi la cosa è partita andando anche oltre le nostre aspettative perché ha aderito Venezia ha aderito una squadra di Genova ha aderito una squadra di Terni e quindi il torneo ha preso una connotazione non dico nazionale però insomma copre svariate regioni d'Italia la sede è quella dell'impianto all'interno del circolo tennis giusto? Sì la sede deve essere assolutamente quella perché è l'unico impianto per il calcio a 5 a Fano a norma le squadre sono 8 verranno divise in due gironi e poi le vincenti le prime e la seconda di ogni girone faranno semifinale e finale quali le fasce di età interessate dall'evento? Ma sono i ragazzi del 2012 e 2013 nati in quegli anni lì abbiamo deciso per quella fascia perché lo riteniamo più divertente sono bambini che devono crescere vengono instradati al mondo del calcio a 5 e poi diciamo che non c'è competitività non c'è una troppa animosità troppa animosità sono dei bambini che si devono divertire sul campo dal calcetto dal calcio a 5 Carissimi che sviluppa la sua attività all'interno del calcio a 11 allora come si coniuga questo impegno verso il calcio a 5? A noi piace un po' tutto il mondo del calcio quindi calcio a 11 maschile calcio a 5 e adesso stiamo pensando anche al calcio a 11 femminile stiamo pensando è vero che il calcio femminile è ancora un po' indietro però io ritengo che è nel nostro modo di intendere lo sport quello di far divertire i bambini sia a calcio a 11 che a calcio a 5 e quindi ci siamo buttati volentieri in questa avventura Avete trovato Sfondo in Etabetta che sul piano dell'impegno per i giovani è comunque già molto attiva e quindi in qualche modo i carissimi hanno trovato terreno fertile lei a Cucci Assolutamente sì è una collaborazione che ci piace portare avanti come dicevamo precedentemente tante società anche a livello nazionale andando ai livelli alti del calcio a 11 stanno cominciando a considerare la pratica del futsal una cosa propedeutica allo sviluppo dei giocatori nel calcio a 11 Invertendo un po' l'ordine dei fattori tradizionali in Italia Esatto in Italia siamo molto indietro se andiamo all'estero si parte dal futsal bambini che toccano il pallone tantissime volte in impianti che permettono un gioco veloce rapido negli spazi stretti in Italia la tendenza purtroppo alle volte è di giocatori che giocano a calcio a 11 finché non si esauriscono non finiscono il loro percorso e poi passano a calcio a 5 e invece abbiamo la possibilità con questa collaborazione di invertire questa tendenza che magari può portare anche frutto per entrambe le realtà credo Si tratta mi pare di capire fondamentalmente di offrire l'opportunità a questi bambini a questi ragazzi di saggiare entrambe le discipline e poi magari di orientarsi in maniera definitiva Esatto da questo punto di vista c'è stato anche un cambio di regolamento l'anno scorso per cui è possibile per i giovani atleti per gli atleti in generale fare il doppio tesseramento e quindi giocare sia a calcio a 11 che a calcio a 5 chiaramente non nella stessa giornata però il ragazzino magari può avere la scelta di giocare in due squadre in contemporanea sia a calcio a 5 che a calcio a 11 e sicuramente è una cosa che giova alla crescita dell'atleta Con i nostri ospiti facciamo sempre un po' di storia allora raccontiamo la parabola di questi carissimi 2016 che acquisiscono il nome dall'impianto in cui si sviluppa l'attività cosa avete fatto in questi anni come è nato tutto e come avete poi proceduto Giuliani tutto è nato dall'impegno dei genitori che avevano i loro figli al Fanella al vecchio Fanella quando poi non ha proseguito la sua attività un gruppo di genitori me compreso ci siamo impegnati per farla proseguire in questi anni dal 2016 secondo me abbiamo lavorato tanto merito anche dei miei collaboratori merito degli allenatori siamo riusciti a fare una squadra di allenatori secondo me molto competente e abbiamo raggiunto determinati numeri di cosa parliamo in termini di praticanti di iscritti parliamo di 220-230 iscritti tenuto conto che nel 2016 quando siamo partiti eravamo 150 siamo cresciuti seguendo però la nostra filosofia un nostro collaboratore Gianni Boiani ha cognato il motto passione sport divertimento quindi per noi è un divertimento io a queste tre parole ci aggiungerei anche sociale e cultura perché nel nostro modo di intendere il calcio ci deve essere abbinato anche l'aspetto sociale infatti noi stiamo aiutando un asilo in Brasile ogni tanto gli mandiamo delle delle magliette dei palloni facciamo delle donazioni che poi gli arriveranno abbiamo aiutato un bambino ucraino l'abbiamo inserito da noi tra l'altro ci ha mandato anche un bel video dall'Ucraina perché è dovuto ritornare e culturale perché abbiniamo sempre alle nostre trasferte un aspetto culturale per esempio siamo andati adesso nel weekend Pasquale a Parma a fare un torneo siamo andati su un giorno prima per fare una visita guidata al centro di Parma quindi per noi un'attenzione particolare mi pare venga prestata anche all'aspetto formativo sì certo i ragazzi da noi vengono formati anche a livello sportivo perché comunque a noi piace vincere non è che siamo lì a fare per cui i ragazzi vengono formati a livello sportivo ma hanno anche una formazione educativa e socioculturale cerchiamo di prendere tutti gli aspetti della crescita di un bambino non solo quello sportivo e calcistico il bambino si deve divertire deve stare bene da noi e poi dopo la nostra filosofia è quella anche di educarlo a questi altri aspetti socioculturali nel caso di Etabeta invece qual è la dimensione dell'attività giovanile e quali le squadre che mettete in campo allora per quanto riguarda il settore giovanile abbiamo due squadre una squadra iscritta al campionato nazionale di under 19 e una squadra che partecipa al campionato regionale di under 17 con l'under 19 appunto abbiamo finito il campionato domenica dove abbiamo perso i playoff a Pescara però sicuramente è stata una bellissima esperienza tra l'altro in passato avete centrato risultati anche importanti sì esatto ed è per il secondo anno consecutivo arriviamo davanti alla fine del campionato la regular season e siamo arrivati a fare una fase nazionale appunto giocando contro una realtà molto solida con una squadra in serie A che comunque si giocherà allo scudetto anche quest'anno che è il futsal Pescara perciò è stato bello poter arrivare fino a lì quei ragazzi sposo appieno quanto diceva Massimo perché sono due le situazioni che si portano avanti una sicuramente quella del sociale dove si tengono ragazzi lontani dalla strada comunque li si fa crescere in un ambiente sano e li si tiene impegnati in un'attività che li fa crescere sotto tutti i punti di vista non solo quello sportivo l'altro comunque è una missione tra virgolette agonistica e il settore giovanile diventa un serbatoio per la prima squadra perché in questi anni tanti ragazzi che hanno cominciato senza grandi senza grandi i desideri c'erano i sogni lo stesso senza grandi ambizioni ma si sono ritrovati a giocare in un campionato nazionale che è appunto la Serie B che giochiamo come prima squadra occasioni non sono mancate quest'anno proprio per l'andamento un po' sofferto del campionato di Serie B per ETA-BETA che non è stata all'altezza delle aspettative ma il rovescio della medaglia è stato rappresentato dal fatto che avete potuto dare l'opportunità a tanti giovani del vostro bivaio di misurarsi in un campionato vero esatto esatto le aspettative d'inizio stagione erano alte perché la rosa sicuramente era buona e purtroppo gli esordi sono stati molto buoni abbiamo battuto subito alla prima partita una favorita al titolo finale e questo ci ha portato subito ad avere grandissime aspettative che non siamo riusciti a mantenere a pieno ma più che altro perché era un campionato di alto livello e appunto come dicevi ci siamo trovati a dover impiegare tanti giovani per situazioni di infortuni o altre situazioni simili però questo è sicuramente il lato positivo perché i ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile fino a ieri si sono ritrovati a giocare contro atleti già fatti e compiuti e sicuramente questo li ha fatti crescere molto campionato di serie B di cui ricordiamo protagonista anche la Bulldog Lucrezia che sarà chiamata ad affrontare i playoff per salire al campionato superiore dopo aver visto sfumare la promozione proprio a pochi secondi dalla fine nell'ultima giornata tornando ai carissimi abbiamo detto qual è il vostro quartier generale e in quel quartier generale voi state coltivando un sogno che però non riesce ancora a trovare concretezza di cosa parliamo? il nostro sogno è un campo da 11 in sintetico un campo da calcio 11 in sintetico che fa tutta la differenza del mondo sì perché permette di allenarsi in qualsiasi condizione di tempo permette di tenere più squadre sul rettangolo di gioco insomma ci consente di svolgere la nostra attività nel migliore dei modi non che adesso non la stiamo svolgendo bene anzi il come piace definirlo a me il nostro campo di patate comunque fa divertire i ragazzini fa divertire un sapore di calcio antico esattamente esattamente però ecco questo sogno che per ora è ben riposto in questo cassetto io spero che non dico a breve nel medio termine diciamo così nel giro di qualche anno possa uscire da quel cassetto ecco carissimi che è impegnata adesso nell'organizzazione di questo torneo di calcio 5 da Fano Futsal Cup ma che tradizionalmente da qualche anno si adopera anche per un altro torneo e anche in questo caso torna l'abbinamento il binomio con la città e con la cultura la tradizione culturale e i beni di questa città e qui parliamo del trofeo Lisippo sì noi abbiamo voluto dare era nelle nostre idee quella di organizzare un torneo alla città di Fano e sempre con l'aiuto di Gianni di Boiani abbiamo deciso di dargli proprio questo nome per identificare sia la città di Fano sia i ragazzi che poi competono in questo torneo perché poi Lisippo è l'atleta di Fano per cui i ragazzi che giocano sono degli atleti e ci crediamo molto in questo torneo anche qui è un torneo che pian piano sta crescendo qualche anticipazione sulla prossima edizione date il numero di società partecipanti la prossima edizione si svolgerà a partire dal 29 maggio e terminerà il 3 giugno sono diverse serate la sede è il campo sportivo di Gimarra e anche qui abbiamo squadre non che arrivano da fuori regione ma che comunque coprono un'ampia parte della regione perché viene la Iesina viene la Vigor Senigaglia e poi viene una squadra di Ancona e quindi stiamo anche qui coprendo una buona parte del territorio regionale con l'obiettivo poi di crescere di far diventare questo torneo un punto di riferimento ecco e noi seguiremo certamente questo percorso grazie a Massimo Giuliani presidente dei Carissimi 2016 grazie a Damiano Iacucci allenatore di ETA Beta Calcio a 5 grazie come sempre anche a voi per averci seguito e contiamo che lo facciate anche la settimana prossima Grazie a tutti